ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno del mio canale e in questo nuovo video di cosa parleremo oggi parleremo di una notizia che è arrivata ieri poco di meno che dal community manager della community inglese ho fatto un po un gioco di parole il com ha aperto una discussione appunto sul loro forum scusandosi dei vari ritardi che ci sono stati sui nuovi aggiornamenti in breve parole cosa dice in questa discussione in questa discussione dice che il merge internazionale slitterà quindi non sarà più a fine anno ma avverrà nei primi mesi dell'anno nuovo quindi inizio 2021 e dice anche che assieme ad esso ci sarà il bilanciamento delle sp quindi diciamo la seconda parte che non è mai arrivata almeno fino ad ora ci hanno dato diciamo un assaggino che ad alcuni è piaciuto ad alcuni un po meno a me sinceramente è piaciuto però lo dico ragazzi potevano fare molto 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 di più hanno fatto veramente poche niente potevano fare davvero davvero di più c'è stata una prima parte di questo bilanciamento è stata un po scarna un po deludente sicuramente mi è piaciuto il fatto che hanno reso la tripla il falco buff personali ma sinceramente avrei preferito che avessero reso tutti i buff personali all'interno delle mappe pvp il pve non l'avrei assolutamente toccato anche perché sono dell'idea che non stai il come gioco è molto molto semplice quindi ragazzi primi del 2021 ci aspettiamo questo merge internazionale quindi andremo a giocare con i polacchi con i francesi con i tedeschi e via dicendo come sarà il gioco sicuramente sarà molto più competitivo perché io ho visto veramente player che fanno rabbrividire per quanto siano potenti in altre community quindi ci sarà veramente da ridere ma veramente veramente da ridere questo ovviamente per quanto riguarda il pvp per quanto riguarda il pve sicuramente saremo molto avvantaggiati ci saranno sicuramente molte più maratone ci saranno sicuramente anche molti più ride aperti molti più glace draco eccetera 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 quindi diciamo che dal lato pve saremo a posto nel senso non avremo più problemi a trovare una maratona a trovare un ride aperto a fare una determinata missione le mappe saranno sicuramente più piene anche quelle per poter expare eroe e quelle sì quelle saranno un problema ragazzi quindi direi sì che potrebbero benissimo creare un altro metodo per poter expare eroe perché un conto stare lì a litigare con un italiano immaginiamoci di litigare con tutta la community per trovare uno straccio di mappa libera quindi sì direi che potrebbero implementare una lod per gli eroe che quindi loddano praticamente in gilda oppure se hanno bisogno di loddare si possono creare la propria gilda si rinchiudono lì dentro in due tre quelli che sono ed expano senza problemi ovviamente il gioco dovrà essere sistemato in base a questo merge enorme quindi secondo me anche i prezzi si abbasseranno un pochino di più perché ci saranno molti più item molte più sp molte più cose molta più gente che shoppa quindi sicuramente si abbasserà anche il prezzo degli nd non so ragazzi staremo a vedere queste comunque sono tutte supposizioni manca davvero poco mancano pochi mesi e quindi poi da lì staremo a vedere speriamo veramente che la game forge faccia le cose per bene e non fatte con i piedi altra cosa davvero davvero interessante sarà appunto la creazione di un server test che cos'è un server test qui spiega praticamente che tutti i nuovi aggiornamenti verranno prima effettuati all'interno di questo server test e in pratica saranno proprio player a testare questi nuovi aggiornamenti perché ci daranno la possibilità di poter accedere a questo server per poter appunto provare questi nuovi aggiornamenti e dare comunque un nostro feedback anche se fino adesso credo non gli sia fregato proprio niente dei nostri feedback ci sono comunque suggerimenti sulla nostra community ad esempio manco cagati nel senso sono stati fatti lasciati lì a marcire a questo punto io avrei proprio chiuso la sezione dei suggerimenti perché comunque non credo che siano stati mai presi in considerazione forse le lamentele le lagnie come le chiama l'orsirio però appunto vediamo se con questo nuovo server in cui proprio il coma dice che possiamo lasciare dei feedback positivi o negativi sui vari aggiornamenti che verranno effettuati se cambieranno le cose se comunque la gameforge sarà più dalla parte dell'utente anche perché in 13 anni di gioco ho visto veramente poca importanza verso il player veramente poca importanza poca considerazione quindi davvero si spera che con questo cambiamento siano molto più presenti e prendano più in considerazione appunto il player e quello che ha da dire questo server come c'è scritto qui verrà appunto inserito una volta completato il merge internazionale una cosa un'altra cosa importante da dire che comunque non vi preoccupate nel senso molti si fanno il problema ama io l'inglese non lo parlo bene eccetera eccetera bla 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 quindi per questo la lingua italiana da quanto ho capito rimarrà perché appunto danno la possibilità al player di poter scegliere la propria lingua non dice che comunque le lingue tipo italiano e altre lingue polacco verranno eliminate ma resteranno a quanto ho capito quindi non vi preoccupate per quello all'interno della propria gilda se comunque una gilda italiana potrete continuare a parlare in italiano ci saranno comunque come al solito i vari gruppi whatsapp i server discord in cui poter stare con altre persone italiane quindi non fatevi assolutamente problemi poi ripeto i termini da videogame li conoscono quasi tutti capirsi è davvero semplice a parer mio veramente una volta che avrete imparato i termini più utilizzati all'interno di nostale i termini appunto internazionali per poter comunicare con gli altri player secondo me il gioco è fatto tutto sta iniziare la botta iniziale secondo me sarà bella grande e la sentiremo tutti però sinceramente ragazzi vedere nosville piena di gente sicuramente farà piacere vedere la lista dei ride sempre piena vedere comunque le varie attività sempre colme di player sarà sicuramente un bel regalo un bel regalo perché appunto quando giocavo io su nosia tanti tanti anni fa il server era veramente tanto affollato pieno veramente di tanta gente e pieno davvero di tante attività quindi era molto molto divertente e si giocava davvero bene unica cosa appunto che spero che la gameforge faccia le cose per bene tutto qua altra cosa che ci aspettiamo all'inizio del 2021 spero che appunto avvenga insieme al merge o subito dopo l'arrivo delle 9 sp e della 5 sp per l'artista marziale e lì sono davvero in hype ragazzi sono davvero davvero in hype il video termina qui io spero che vi sia piaciuto se fosse così mi raccomando spolliciate a più non posso iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video e live in uscita seguitemi sui miei social link in descrizione e alla prossima ciao ciao